Le problematiche strutturali delle sedi che ospitano i centri per l'impiego sono state al centro della riunione che l'assessore regionale alle politiche del lavoro Pietro Quaresimale ha tenuto questa mattina nella sede della regione a Pescara. L'assessore ha chiamato a partecipare i sindaci delle 15 città abruzzesi che ospitano uffici dei centri per l'impiego per conoscere direttamente da loro i problemi da affrontare e predisporre così soluzioni tecniche efficaci. I centri per l'impiego come da finanziamento governativo c'è anche il miglioramento strutturale di queste sedi quindi voglio fare con loro il punto della situazione per poi intervenire e cercare di adeguare quegli edifici che non sono a norma che hanno problematiche a livello di barriere architettoniche. Questo è un progetto molto importante perché vogliamo far tornare i centri per l'impiego ad assurgere quel ruolo per cui sono nato ovvero quello di incrociare domanda e offerta di lavoro. In questi finanziamenti c'è il potenziamento anche del personale, stiamo facendo dei concorsi ma anche a livello formativo e a livello anche informatico per fare una rete adeguata ai tempi. Assessore ci sono oltre 20 milioni di euro a disposizione? Sì sono oltre 20 milioni di euro per cercare di potenziare da ogni punto di vista i centri per l'impiego che poi dovranno dare attuazione a questo programma del PNR che si chiama GOL che non è un termine calcistico ma è garanzia occupabilità lavoratori. Anche lì somme importanti per incentivare l'assunzione di disoccupati, inoccupati e soprattutto formarli perché molti datori di lavoro, molti imprenditori cercano manovalanza ma non hanno dei profili specifici. Quindi spetta a noi istituzioni andarli a formare e a qualificarli.